Beh ragazzi che dire, davvero difficile commentare una partita di questo tipo, difficilissimo difficilissimo perché cosa puoi dire ad una squadra che era dimezzata nei suoi effettivi che era veramente in emergenza sotto tutti i punti di vista e che ha dato tutto e che secondo me l'ha giocata bene, l'ha giocata con orgoglio l'ha giocata con spirito di sacrificio, l'ha giocata con identità secondo me l'ha giocata davvero con identità, preparata bene dal nostro allenatore non so voi, sono sincero, non so voi, io non mi aspettavo con questi giocatori con questi interpreti, con questa squadra a disposizione, non mi aspettavo di andare a San Paolo e di dominare la partita, di fare calcio champagne, di fare una partita spumeggiante di fare 10 tiri in porta, mi aspettavo una partita dove la Juve doveva effettivamente essere cinica doveva effettivamente sfruttare le occasioni da gol che riusciva a crearsi e così è stato, così è stato, non è accettabile buttare via delle prestazioni e dei punti perché ti fai gol da solo, non lo accetto, non lo accetto e comincia a venire fuori il mio essere severo nei confronti di un giocatore come Cesni perché mi sono sempre schierato a favore dell'acquisto di Donnarumma con qualcuno che dice, eh sì, troppo pagato, i troppo pagati ragazzi sono altri i giocatori forti io li pago molto volentieri, Di Balla gli do volentieri tutti i milioni che chiede gli do molto volentieri, sono gli altri, sono i 7 milioni che si prende Cesni che mi stanno sul cazzo sono quelli che mi stanno sul cazzo vale lo stesso discorso suo per Bentancur, è identico, è identico sono giocatori che hanno finito le loro chance alla Juventus, le hanno finite e bisogna dare un segnale, ma bisogna darlo a questi giocatori che capiscano che capiscano con i fatti che non è che per quello che hanno fatto nella loro carriera di diritto sono titolari nella Juventus serve dare una scossa, quanti altri punti vogliamo perdere per un errore del portiere perché ve lo ripeto, ve lo ripeto la Juve ha fatto la partita che doveva fare oggi ragazzi serviva un mezzo miracolo per vincere ci stavi riuscendo perché secondo me nel primo tempo hai fatto una buona gara una buona gara sei riuscito ad andare in vantaggio io avevo la sensazione di vedere in campo la Juventus di Max Allegri quella che si difende, quella che ha un'identità, quella che corre quella che cerca di attaccare ma poi se perde palla è pronta con tutti gli unici giocatori a scendere dietro la linea del pallone questo lo stavo vedendo, ero contento perché sapevo che oggi non potevo aspettarmi nient'altro di diverso il dominio del gioco me lo aspetto quando abbiamo in campo chi sa giocare a calcio e chi fa la differenza non oggi che giocavamo con Pellegrini e De Sciglio ma questo non è un alibi, non è un alibi tutt'altro è a difesa della prestazione di una squadra che ha dato tutto lo stesso Pellegrini ha fatto una grande prestazione a discapito di quello che invece vi ho detto io no? secondo me Pellegrini non è un giocatore pronto per la Juve stasera ha fatto una grande prestazione hanno dato tutto questi giocatori lo stesso Bernardeschi che ha sbagliato tanto ma ha fatto anche tanto e ha corso tanto per la squadra e ti fai gol da solo, due, due ed è la seconda volta in tre partite e sei ultimo in classifica con un punto basta è inaccettabile è inaccettabile che la Juventus si perdano dei punti perché ti fai gol da solo per mancanza di attenzione per mancanza di concentrazione Scesni non ha abbastanza personalità non ha abbastanza mentalità per essere il portiere della Juve perché è tecnicamente indiscutibile eh basta basta dagli un segnale dagli un segnale perché così lui da domani si mette lì e comincia a venire al campo con la voglia di riprendersi il posto con la voglia e con la fame di riprendersi il posto facciamo andare bene delle cose che non vanno bene che non sono accettabili che non sono accettabili sono orgoglioso della partita che ha fatto la Juventus stasera perché lo ripeto andavamo a giocare in casa del Napoli che il San Paolo sappiamo il Maradona adesso sappiamo che trasferta è per noi questa qua lo sappiamo che non aspettano altro che questa vittoria questi qua lo sappiamo lo sappiamo benissimo sappiamo che sei in prostica sappiamo che il Napoli può avere anche la squadra peggiore della storia del Napoli ma sappiamo che quella rimane una trasferta scomoda come lo rimane per esempio quella al Franchi contro la Fiorentina e io oggi mi aspettavo una partita esattamente così dove tu dovevi cercare di andare in vantaggio con il massimo del cinismo e ci sei riuscito e poi ti sei difeso alla grande e lo testimoniano ragazzi il numero di corner che ha battuto il Napoli sintomo del fatto che tu sei riuscito a chiudere le linee centrali quelle più pericolose li hai lasciati sfogare sugli esterni e tante deviazioni hanno portato ai loro corner che secondo me hanno superato i 10 il Napoli ha dominato il Napoli ha dominato e non me ne frega niente che meritasse di vincere o pareggiare la partita i campionati si vincono quando tu porti a casa i tre punti quando l'avversario merita di vincere se tu vinci quelle partite lì vuol dire che sei più forte anche dell'imprevisto sei più forte anche della difficoltà e tu secondo me stasera lo eri perché eri ben organizzato perché quando la Juve faceva il contropiede e perdeva la palla io vedevo con la bava alla bocca i giocatori che tornavano si mettevano in 11 a difendere la nostra area avevano identità sapevano tutti quello che c'era da fare tutti al loro posto tutti nelle giuste posizioni e poi arriva l'errore del portiere e arriva il secondo errore del portiere che va e lascia scoperta la porta due errori in un'azione che ti costano il gol e dopo cosa puoi fare ragazzi cosa puoi fare non è semplice reagire all'ennesimo errore non è semplice reagire all'ennesimo errore soprattutto quando sei fuori casa soprattutto quando sai che sei in una situazione in cui devi recuperare già in classifica perché hai sbagliato le prime due partite ci sei ridento a capofitto gli stessi errori e il secondo gol è il secondo gol grossolano grossolano cos'è successo scesni che fa due passi in avanti poi torna indietro perché ha paura e quindi questo crea anche un po' di titubanza in Ken che non si capisce bene cosa faccia scesni che non riesce a trattenere il pallone che la rimanda sui piedi di Koulibaly non è accettabile non è accettabile accetto la partita sbagliata tecnicamente non accetto il fatto che in tre partite due le hai perse perché le hai regalate tu non accetto la Juventus questo la mentalità vincente che caratterizza questa squadra non ce la deve togliere nessuno e non ce la può togliere nessuno poi si vince poi si perde veniamo da nove anni di dominio adesso probabilmente è giunto il momento in cui noi ci dobbiamo mangiare un po' di merda è giunto forse questo momento qua il momento in cui si guarda gli altri che vincono che fanno risultato e tu sei lì che mangi merda perché poi ha anche esagerato perché tanti tifosi della Juve la maggior parte dei tifosi della Juve dai sondaggi ha cacciato via a calcio in culo Cristiano Ronaldo che oggi ti fa due gol ti dimostra che è il più forte del mondo e tu prendi Ken e ti fa autogol perché esagerare ragazzi esagerare poi si fa questa fine qua perché passare da Cristiano Ronaldo a Ken è un attimo quando si pecca di presunzione è un attimo allora visto che tanti di voi per fortuna non quelli della mia community ma tanti di voi tifosi della Juve che magari stanno guardando questo video in questo canale che non conoscevano prima voi che avete voluto via Cristiano Ronaldo adesso vi tenete questi adesso vi tenete questi perché come avete insultato paratici di presunzione voi avete commesso lo stesso peccato peccato uguale e adesso ti tieni questi giocatori è il campionato della pazienza ragazzi pazienza significa una sola cosa ridimensionare le aspettative della stagione ridimensionare le aspettative della stagione non so dirvi non so dirvi quali sono le mie aspettative è troppo a caldo appena finita la partita come faccio a essere lucido come faccio a darvi un pronostico non bisogna guardare la classifica adesso non bisogna guardare la classifica adesso c'è tanto altro da fare prima tanto altro da fare prima ricostruire una mentalità e ricostruire la juventilità che secondo me qualcuno ha un po' perso perché qualcuno si è un po' seduto abemus centrocampista ragazzi lucatelli l'unica non l'unica nota positiva perché per me la squadra è stata positiva stasera lo ripeto ma direi sopra le righe lucatelli finalmente un centrocampista che si smarca che chiede pretende il pallone gioca due tocchi destra e sinistra ha fatto due o tre cambi campo nel secondo tempo meravigliosi meravigliosi lo voglio vedere con tutta la squadra che gli ruota attorno con Dybala che la viene a prendere anche tra le linee con Arthur di fianco che gli palleggia di fianco vediamo ragazzi c'è la Champions c'è la Champions dai cerchiamo di rifarci con quella